Stoppa la musica nei locali del centro di Roseto alle 2 di notte per dare la possibilità ai residenti di poter riposare e multe per gli incivili. E' questa la linea che l'amministrazione comunale costiera ha ribadito dopo gli incontri fatti con residenti e attività presenti in particolar modo su Via Latini, fulcro della Movida nel fine settimana. Io la chiamerei la vita più che Movida perché la vita di una città deve pulsare nel suo centro, il suo centro è fatto di famiglie ma è fatto anche di attività commerciali, è fatto di giovani che vivono in maniera salubre, in maniera seria quello che è anche il divertimento ed è fatto appunto di controlli. L'amministrazione comunale ha voluto mettere al stesso tavolo tutte le attività commerciali con la consigliera del Pidio, il consigliere Aceto, delle politiche giovanili, con l'assessore Mastrilli, insomma con tutta la squadra di governo, con il vice sindaco Marcone perché abbiamo chiesto loro di collaborare, di coprogettare, di cofinanziare quello che sarà una vigilanza corretta a supporto delle forze dell'ordine che ringrazio per il gran lavoro che fanno sul territorio e soprattutto cercando di andare verso una giusta regolamentazione, cioè dopo l'ora che noi abbiamo consentito, cioè delle due di notte, che è quella appunto dello sviluppo della vita, della Movida, della musica e del divertimento, bisogna far sì che quella zona abbia quella che è la sua finalità, cioè del riposo delle famiglie che ci sono. Troveremo lo strumento giusto, lo faremo e siamo contenti che questa sarà la soluzione per la città. Nel frattempo l'amministrazione comunale è al lavoro anche per organizzare per il periodo natalizio eventi e iniziative, anche se la condizione causata dagli aumenti delle bollette non permetterà grandi eventi. Stiamo lavorando con i privati, con l'assessore appunto agli eventi Lorena Mastrilli, abbiamo sicuramente ricevuto diverse sollecitazioni e a breve si sarà quella che sarà il cartellone natalizio, in un Natale che però deve essere nel rispetto di quella che è una paura, di tante famiglie, di tante attività, quindi saremo sicuramente gioiosi, ma nel rispetto di una sobrietà che dovrà caratterizzare non solo Roseto, ma credo tutti i comuni e tutti gli enti pubblici in Italia.